non l'avrei mai detto ma siamo giunti a fare questi nuovi video assaggi giapponesi io sono pronto andiamo bene proprio bene ciao ragazzi benvenuti nel mio canale benvenuti in questo nuovo video di video assaggi finalmente da oggi partono gli assaggi cinesi giapponesi sono molto preoccupato perché non so cosa mi aspetteranno speriamo di sopravvivere o addirittura di avvelenarmi in diretta video come funzioneranno questi video assaggi? questi video assaggi in primis sono quelli che avete votato voi sul mio profilo instagram perostratinobasso live ogni mercoledì il sondaggio partirà al mattino e si concluderà alle 20 e il vincitore verrà scelto tra i prodotti quali dovrò assaggiare la settimana successiva questa settimana avete scelto questo sono degli snack di soia con zucchero saranno dolci? saranno salati? vi faccio vedere bene e vi dico una cosa con questi prodotti cinesi giapponesi analizzeremo quattro obiettivi il packaging, l'odore, l'aspetto e il gusto se siamo pronti io inizierei con il packaging mi sembra semplice con questo signore che sta facendo qualcosa non so che cosa è magari sta cuocendo questi 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 snack io ci ho paura veramente ragazzi ho veramente paura fatemi in bocca al lupo io vado ad aprire la busta l'ho aperta vediamo l'odore l'ho buzzata di riga di alziana con dei problemi intimi oh mio dio beh oddio l'odore è pessimo odore è pessimo oh mio dio oh mio dio queste cose qua sono meno glassate questa è sono molli 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 mamma mia ma mia l'aspetto non è il migliore non mi piace l'odore lasciamo perdere non mi piace proviamo con il gusto no com'è che schifo che schifo è una cagata pazzesca ammattia pizzicano che schifezza che schifo gusto gusto zero zero questo è una mia patomiera ma l'arma che schifo mannaggia voi ragazzi mi volete avvelenare mamma mia mamma mia mamma mia ragazzi questo è stato il primo video di video assaggi di questo schifo non mi son piaciuti non mi son piaciuti speriamo che col prossimo vada meglio e mi raccomando io vi ringrazio per avermi seguito in questo video vado a risciacquami la bocca col col torio perché è una cosa che non si può vedere ciao yeah